Ultima serata l'insegna del divertimento, dell'allegria e del buon umore, quella che ha visto in occasione del Marte di Grasso molti leonfortesi riversarsi per le strade del paese e salutare questo Carnevale 2016. I gruppi in maschera a partire dal pomeriggio hanno sfilato lungo il corso principale secondo il tradizionale spirito goliardico e trascinando l'intera cittadina in un'atmosfera di spensieratezza e gioia. Attesissimo da tutti i presenti e dai partecipanti il caratteristico momento dell'esibizione in piazza 4 novembre che ha dato la possibilità a tutti i gruppi di presentare le proprie coreografie rendendo onore all'impegno ed al lavoro svolto spesso nei mesi precedenti. Fondamentale anche quest'anno l'attività dell'associazione ASFA, animazione che attenta ai dettagli e dei particolari, ha curato e gestito tutte le serate del Carnevale Leonfortese a presentare le esibizioni di premiati lo storico gruppo Canoro Leonfortese dei Tandem. Costituito da Pino Maraffino e Fiorella, ideatore, tra le altre cose, della sigla ufficiale 2016. A seguire la lista dei vincitori del Carnevale Leonfortese 2016, sul podio primo classificato il gruppo di Mary Poppins, secondo classificato il gruppo dell'Ape Maya e terzo classificato il gruppo dei Minions. Premio per la migliore coreografia al gruppo vincitore di Mary Poppins, premio per le maschere artigianali al gruppo dell'Ape Maya, premio per il gruppo più coinvolgente a quello del Polo Hot e premio per i migliori costumi al gruppo dei Minions. Infine, premio per la maschera più creativa a Salvatore Smario e dal suo costume di Paul Potrol e premio per la maschera più originale a Francesco Romano e Sara Manuele, travestiti da maghi. Grazie a tutti!